Con il nuovo Riomare Filo d'Olio non serve sgocciolare, così lo puoi aprire a tavola o in una favola senza sporcare, perché ha solo un filo d'olio, così lo metti nel panino, sul crostino e nella passata senza sgocciolare. Mangiare bene è semplice con il tonno Riomare Filo d'Olio, la qualità e il gusto di sempre con un filo d'olio. Riomare, c'è un mare di possibilità!